Il sindaco ha dato al mio partito e a me personalmente come unico rappresentante del Consiglio Comunale perché c'è stata una differenza dal 2007, anno in cui siamo stati eletti, ad oggi con le deleghe che sono state affidate a me e al mio partito. All'epoca, senza raccontarvi, erano quattro, in più il partito aveva la possibilità di disporre di un assessore all'interno della giunta. Attualmente ho solo la delega al commercio e l'assessore in giunta purtroppo dall'ultimo rimpasso del 6 di aprile ancora non arriva. Ero in attesa del sindaco di alcune risposte, se darmi l'assessore personalmente, quindi scendere in campo come hanno fatto altri consiglieri eletti diventati assessori oppure nominare un assessore, io ho chiesto dalla mia lista perché chi ha contribuito la vittoria del 2007 deve essere comunque tenuto in considerazione oppure qualsiasi altro incarico che possa dare lustro al nostro partito, l'Alleanza per l'Italia.